qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri buona visione grazie 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 i'm off in a couple hours let's see that new one the one that just came out it's about the finance guys what's it called meltdown a you in western Grazie a tutti. Grazie a tutti.